Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a parlare di uno strumento che è stato pubblicato da poco dalla piattaforma Vimeo. Ossia, dato che ho un account su Vimeo, mi arrivano le newsletter ed una delle novità che veniva segnalata era questa, ossia un'estensione di Vimeo per Adobe Premiere Pro. Subito mi ha incuriosito perché io utilizzo tantissimo Vimeo, o Vimeo come si voglia dire, per condividere i progetti che io monto, i progetti che devo mostrare ad un cliente, utilizzo questa piattaforma perché è veloce, perché mi consente di stabilire delle condizioni di privacy per il video che pubblico. Quindi utilizzo questo come metodo di sharing collaborativo e lavorativo. Naturalmente quando io devo pubblicare, quindi condividere e caricare un contenuto su Vimeo, prima monto il progetto, quello che sia, questo è il video che avete visto qualche giorno fa riguardante il Rude Video Micro. Normalmente io una volta montato esporto un file in H.264 adatto per l'upload online, attendo che il render sia concluso e poi in quel momento prendo il file e lo lancio in upload su Vimeo, semplicemente cliccando sul pulsantino Upload, trascino dentro, metto un po' di parametri di password, di privacy e attendo il caricamento finché non mi arriva l'email che il file è pronto per essere visionato. Naturalmente c'è un tempo di delay, c'è questo tempo di attesa nel momento in cui il render viene concluso e io devo attendere che il render venga concluso prima di poterlo caricare sulla piattaforma. Ci sono certe volte quando si lavora a più progetti contemporaneamente a me capita di dover balzare da un progetto all'altro e certe volte attendere che un render finisca e poi dover attendere per poterlo mettere in upload mi crea delle grane, come può capitare il venerdì sera, finisco di montare un lavoro, devo attendere il render che a volte può essere pesante, ci possono essere tantissime condizioni, devo attendere che finisca prima di poterlo mettere in upload. Ma adesso Vimeo ci viene incontro con questo pannellino che è possibile richiamarlo da questa URL che vi metto nella descrizione di questo video. Si può scaricare gratuitamente sia per Mac che per Windows. Per essere utilizzato non richiede un abbonamento di quelli Plus Pro Business su Vimeo, naturalmente ci sono poi dei parametri che non sono settabili dall'app dato che non li avete nel vostro pacchetto, sul vostro account. Una volta scaricato, naturalmente c'è bisogno di una versione dalla 2015.3 in su, una volta scaricato ed installato vi dice che è possibile trovarlo sotto la finestra Windows Extension Vimeo. Quindi andiamo nel mio progetto che ho appena terminato di montare, per comodità diamo un in ed un out brevi, quindi non renderizzeremo tutto il video, seguendo quello che ci dice il sito web, dobbiamo andare sotto finestra Estensioni Vimeo. Fatto ciò ci si aprirà il famoso pannello aggiuntivo, questa estensione per Premiere, che la prima volta vi chiederà di inserire le vostre credenziali del vostro account Vimeo. Naturalmente qui vi riporta tutte quelle che sono i parametri, come ad esempio la quota di upload mensile, posso entrare nel mio profilo, nelle impostazioni del mio profilo su Vimeo, o ancora più semplice, posso mettere in render e caricare in automatico un file su Vimeo, cliccando su questo pulsante. Una volta fatto, lui ci chiederà il settaggio della nostra sequenza, ossia se vuole che prenda l'in e l'out della nostra sequenza, in questo caso sì, altrimenti possiamo scegliere di esportare l'intera sequenza. Possiamo scegliere il preset in cui vogliamo caricare il nostro video, senza andare a creare noi un preset o scegliere tra quelli di Adobe. Lui ci dice, può matchare la sorgente in H.264, quindi quelli che sono i parametri della sorgente, e li esporterà in H.264, in ProRes 4.2.2, in 4K in H.264, in 2K in H.264, in 1080 e in 720, oppure possiamo andare a creare noi un preset che ci può tornare utile. Per le preview io utilizzo il 720, posso andare a selezionare chi può vedere il mio file, in questo caso io selezionerò OnlyMe, quindi soltanto io potrò accedere al video caricato online, altrimenti ci sono diverse possibilità, possiamo decidere che sia un link privato, quindi non condiviso su Vimeo, chiunque può vederlo con una password, quindi possiamo impostare una password qualsiasi, così facendo soltanto le persone che avranno questa password potranno vederlo, oppure anybody, quindi per tutti quanti sarà pubblico. In questo caso faccio OnlyMe, lui ci dice che una volta renderizzato il video lo sposterà in questa cartella, noi andiamo a scegliere una cartella diversa, ad esempio mettiamolo sulla scrivania, e facciamo Upload. Fatto ciò, in automatico, Premiere lancerà Median Coder, che in automatico lancerà il render del video, quindi senza che noi dobbiamo startare il render del video, lo eseguirà secondo le impostazioni predefinite, e il punto magico è questo, che una volta terminato il render e quindi salvato anche il file all'interno di una cartella, dall'altro lato, il plugin di Vimeo, l'estensione di Vimeo, comincerà a caricarlo sulla piattaforma seguendo le nostre impostazioni. E questo, secondo me, è quello che è il punto magico, è quello che è la chiave di volta di questa estensione, ossia eliminare quel tempo di delay tra il tempo di render e l'operazione dell'operatore che deve prendere un file e caricarlo sulla piattaforma. Così facendo, una volta terminato il lavoro, impostati tutti i parametri, possiamo lanciare ed andare via, perché tanto il software farà tutto in automatico. Quindi renderizzare il prodotto, salvarlo sul nostro computer e lanciarlo in upload su Vimeo con le impostazioni che noi gli abbiamo dato. E tra le altre cose, noi abbiamo anche, come si può vedere in questo momento, abbiamo il controllo di quello che sta accadendo. In questo momento è in corso la conversione, quindi sappiamo anche che se andiamo a prendere il link e andiamo ad aprirlo, non lo potremo vedere perché è ancora in fase di conversione. Senza attendere l'email di Vimeo, andiamo nel mio account di Vimeo, andiamo a selezionare il video che abbiamo caricato. In automatico, come possiamo vedere, il video è stato caricato secondo i nostri settaggi, già stato conformato, e se andiamo nei setting, possiamo vedere che nella privacy lo posso vedere solo io, perché questa è l'impostazione che ho dato all'interno del pannello. Sempre dal nostro pannello, una volta caricato un determinato contenuto, possiamo andare a selezionare su questi tre puntini che ci vengono in aiuto, che è un menu, e possiamo andare a vedere, ecco l'email è appena arrivato all'email di Vimeo che ci dice che il nostro video è stato caricato. Selezionando questo menu possiamo andare a vedere dei parametri quali è stato aggiunto, quanto tempo fa è stato caricato e quindi è aggiunto e è disponibile per la visione, i livelli di privacy, quindi in questo caso posso vederlo solo io, oppure creare una review page, questa opzione a me è visibile perché io ho un account pro su Vimeo, perché altrimenti non era possibile. Possiamo addirittura copiare il link del video su Vimeo, quindi cliccando sopra l'abbiamo copiato, se apriamo il nostro browser e incolliamo il link, possiamo vederlo. Ancora possiamo andare nei settaggi del video, oppure possiamo vedere nel Finder, in questo caso perché sono su Mac, dove si trova il mio file. Nel mio caso io l'ho salvato sul desktop. Spero che questo video sia utile a tanti di voi, sia per scoprire questo pannellino, che per capire il suo funzionamento. Che altro dirvi? Vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto il video potete lasciare un like, condividerlo ad amici che vogliono scoprire nuove funzionalità del mondo della postproduzione e non solo. Io vi saluto, ci vediamo prossimamente con un nuovo video.